Al via all'Istituto Tecnico Sebastiano Mottura è il settimo corso di astrofisica, un appuntamento ormai fisso nel calendario delle iniziative previste in città che ogni anno richiama un crescente numero di appassionati del cosmo e del mondo celeste. Introduzione alle scienze astronomiche, scoperta dei pianeti extrasolari, buchi neri supermassicci, la nascita della teoria dei quanti, i grandi telescopi nell'ottico e nel vicino infrarosso, il vento solare e aurore boreali, alcuni dei temi che saranno affrontati da altrettanti relatori, tra cui gli studiosi in ambito universitario nel corso degli incontri che si terranno sino a giugno. Ospitiamo con orgoglio la settima edizione del corso di astrofisica da un'idea nata dall'ingegnere Fiorino e alla presenza oggi, proprio il giorno di inaugurazione, dell'ingegnere Fran Giamone, il responsabile del planetario di Montedoro. Ma abbiamo anche veramente un'aspirazione in più, quella di essere proprio centro di formazione e di orientamento per il nostro territorio. E custodiamo all'interno, così in effetti voi sapete che siamo anche i custodi del nostro bellissimo museo mineralogico e paleontologico, quindi anche dei fossili, ma custodiamo anche un'aspirazione verso l'alto, verso le stelle, che il nostro istituto possa essere da stella cometa di orientamento per le future generazioni. Il corso si articola in circa 50 ore di lezione, alcune del tutto teoriche, che partono dai principi della fisica moderna, quindi relatività e meccanica quantistica, per poi affrontare le tematiche più recenti che riguardano l'universo, la sua formazione e il suo destino. Poi faremo attività di osservazione pratica, quindi significa esperimenti di laboratorio inerenti a questo tipo di argomento, e poi osservazione del cielo in vari siti di interesse astronomico. Infine ci avvaliamo, come sempre, della presenza di numerosi esperti del settore, quindi astronomi, ricercatori e docenti universitari, con i quali faremo dei momenti di approfondimento. Il corso si apre al territorio, quindi è aperto a tutti gli interessati, faremo degli incontri settimanali. Previste anche delle visite guidate ai laboratori nazionali del Sud dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Catania, al Museo di Astronomie dello Spazio Infinito di Torino e ad alcuni osservatori astronomici. Per la prima volta il corso di astrofisica si aprirà anche alla possibilità di fare osservazioni presso più osservatori astronomici, Montedoro, in Val d'Aosta e altrove, e darà la possibilità di formare i ragazzi in modo oltre che teorico anche strettamente pratico, con l'opportunità di poter valutare e utilizzare gli strumenti che ci sono presso gli osservatori e poterne fare anche un utilizzo anche alla fine del corso come esperienza possibile di un potenziale lavoro futuro.